Allora Elio, molto diversa, molto brava, bravissimo Elio, che sorpresa, che bella sorpresa, ma le sorprese non sono finite, anzi adesso arriva il bello. Allora dicevamo che tu hai frequentato l'Accademia dal 1945 al 1948, giusto? Sì. Certo. E adesso se non ti ricordi, noi abbiamo una bella fotografia che ti rinfrescherà la memoria. Iapino, Iaco amore mio, mi mandi una bella foto come solo tu sai fare? Eccola qui? Oh, che bella foto. Allora, qui abbiamo molti attori, puoi girarti, guarda bene, abbiamo, non so, Tino Bozzelli, Paolo Pannelli, Giancarlo Sbraggia e Antonio Crass, giusto? Sì, esatto. Certo. Ma io sono quello lì seduto in mezzo. Bandolfi, certo. Sì, me lo amare. Ma qui non ci sono, non ci sono degli attori con cui tu hai lavorato, con cui tu sei stato, hai frequentato l'Accademia, molto bravi, degli splendidi attori che non sono in questa foto, che ne so, Flora Mastroianni, Marina Bonfigli o Riccardo Garrone, giusto? Certo. Non ti preoccupare però. Ma non mi preoccupate niente. Perché questa sera non sono in quella foto, ma Marina Bonfigli, Flora Mastroianni e Riccardo Garrone, questa sera sono qui. Ma dove è? Ma! Scusa, da Roma. Cosa è? Marina! Grazie.